Carissimi fratelli e sorelle, gioia e pace in abbondanza a tutti voi, anche se abbiamo un tempo poco luminoso, la gloria del Signore risplende nella vostra vita e nella vita di chiunque gli apre il cuore nella fede nel Figlio suo Gesù Cristo. E questa luce oggi risplenda nella vostra vita, guida i vostri passi, vi accompagna in ogni gesto che voi fate e vi ispiri sentimenti secondo il suo cuore, tenendo fesso sempre lo sguardo a colui che è stato innalzato per noi, colui che è la luce del mondo, colui che, come dice la prima lettura del libro dell'Avocalisse, oggi è l'amen di Dio, cioè il compimento, amen, è, dall'ebraico emet, roccia, Gesù è l'amen, il compimento, la realizzazione, ogni promessa di Dio, la parola di Dio fatta carne, realizzata, adempiuta, portata a perfezione. Questo è Gesù Cristo e oggi la Chiesa celebra anche la festa di una grande santa, anche regina, figlia del re di Ungheria, Santa Elisabetta di Ungheria. E da giovane fu mandata come sposa all'Angravio, re della Turingia, e lei abbracciò Gesù Cristo e seguì lo spirito francescano, diventando una figlia prediletta di Santa Chiara d'Assisi, che le inviò anche una lettera, e lei prese come modello di vita Gesù Cristo. Godeva quando le sue ancelle e le sue serve le davano del tu, anziché titoli, regali, perché voleva essere come tutti gli altri. rispettava il marito, non le faceva fare brutte figure, però la sua vita era dedicata ai poveri, tantiché che a volte se le caricava sulle spalle, le trasportava, curava, le andava a visitare i malati, e le vide consacrata a Gesù Cristo per tutta la sua esistenza. Dopo la morte del marito, volle anche costruire dei monasteri, perché fossero centro di radiazione, di spiritualità, perché noi abbiamo bisogno di questi focolai, come i nostri giorni, abbiamo bisogno di questi focolai di preghiera, non di contestazione, ce ne sono tante che girano anche sui social, contestazione, contro, 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 no. La chiesa ha bisogno di focolai, anzi, di un bracere che sia pieno di spirito santo, che sia pieno di fede, d'amore. Così fu Santa Elisabetta d'Ungheria. E con questo spirito anche noi leggiamo nella prima lettura di oggi le parole che il Signore ispira a San Giovanni da indirizzare alle varie chiese dell'Asia minore, dove il Signore chiede conversione. Fa scrivere al Vescovo di Sarvi, così parla colui che possiede i sette spiriti di Dio e le sette stelle. Lui che conosce le tue opere, ti si crede vivo e sei morto, sii vigilante, rinvigorisci ciò che rimane e sta per morire. Ravviva la fede in te, non importa quello che hai fatto fino a ieri, non importa quel che è stato. Ieri abbiamo avuto l'opportunità di vedere un film su Sant'Ignazio di Loyola, che era un nobile. Infatti Loyola non è una località, ha un titolo nobiliare dove in quella zona sono stati alcuni anni fatti nel loro ritiro per dei gruppi carismatici della Spagna. E quest'uomo fu toccato profondamente dalla grazia, ma dopo aver condotto una vita di corruzione, di violenza, era un guerriero che faceva della battaglia, anche della morte in battaglia, il suo onore, la sua gloria. Era totalitario. Quando gli furono presentati a Sant'Ignazio dei libri, della vita di Gesù, della vita dei Santi, fu colpito tantissimo. Dalla vita di San Francesco d'Assisi, che compie cose meravigliose, senza portare neanche un coltellino dietro, e affascinato da questo esempio di San Francesco e di San Domenico, volle spogliarsi di tutto, andò a Monserata e consegnò la sua spada alla Madonna, cominciò a vivere da Francescana a piedi nudi, perché fosse una persona nobile. Cominciò a vivere da persona mite, arrendevole, persone totalmente dedicate, che soccorreva gli altri, dava quel poco che aveva ai poveri. Per lui, povero, si era fatto povero, la gioia era soccorrere i poveri. Ma ci furono delle tentazioni grosse nella sua vita. Aveva ucciso tanta gente in battaglia, aveva sfidato persone a duello, e questo per lui era un rimorso che lo perseguitava, fino a che il Signore, con la sua grazia, gli fece capire che quel che era stato in precedenza non contava più davanti a lui. Una volta che lui era tornato nelle sue braccia misericordiose, il passato non c'era più, come scrive l'Apostolo Paolo ai Romani, consideratevi morti al peccato. Avete accettato Gesù Cristo e rinnegato il peccato? Consideratevi morti. E queste parole, oggi fratelli, servono anche a noi, a tutti noi, perché il tentatore ci ripresenta sempre davanti gli errori commessi, gli sbagli che non avremmo dovuto fare, per scoraggiarci e allontanarci dalla grazia. No, quando tu incontri Gesù Cristo, tu muori al tuo passato, non esiste più. Perciò, qui, nel libro dell'Apocalisse, in questa lettera, il Signore suggerisce al Vescovo di Sardie, c'è chi dirà avvivare la vita interiore in te. Ricorda, dunque, come hai ricevuto e ascoltato la parola. Custodiscile e convertiti, perché se non sarai vigilante verrò come un ladro, senza che tu sappia che io ora verrò da te. Quindi, l'invito del Signore alla conversione, a tornare a Lui. Il Vincitore sarà vestito di bianche vesti. Non cancellerò il suo nome dal libro della vita. Ecco la promessa del Signore. Così, al Vescovo di Laodicea, il Signore dice, così parla l'amen, l'amen, colui che è il compimento di ogni promessa di Dio. Amen. In Gesù le promesse di Dio sono state realizzate. Anche le cose che devono ancora avvenire sono realizzate in Gesù Cristo. Lui è il compimento di ogni promessa. E a questo Vescovo il Signore gli fa un discorso molto chiaro. Magari tu fossi caldo o freddo. Non sei né caldo né freddo. Cioè, sei tiepido. In un messaggio di Gesù la Santa Maria Maddalena dei Pazzi, Gesù dice, voglio che dalla Chiesa scompai quella maledetta mediocrità. Cioè, bisogna appartenergli. Non essere dei tifosi, dei simpatizzanti di Gesù Cristo. Tanti cristiani sono simpatizzanti. Ma a chi hai dato il cuore tu? A chi appartiene? Con il battesimo tu appartieni a Gesù Cristo. Con la fede tu vieni inserita nel corpo di Cristo. E quindi il Signore ci chiama a questa pienezza di appartenenza. Infatti dice, Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, io entrerò da lui e cenerò con lui e le dico a me. Il Vincitore lo farò sedere sul mio trono, come io mi sono assiso sul trono del Padre mio. Ecco l'invito del Signore a appartenergli. E quando noi gli apparteniamo, facciamo comunione con lui. Nel bene e nel male, nel giorno e nel dolore, nella salute e nella malattia. E nel Vangelo, oggi la Chiesa ci presenta un episodio che noi conosciamo molto bene. L'incontro di Gesù con Zaccheo. Ha venuto a Gerico. Quest'uomo, per vedere meglio, Gesù salì su un sicomoro per vedere Gesù che passava, che era piccolo e di statura. E lui era un raccoglitore di tasse, un escossore di tasse per con dei romani, era un pubblicano. e Gesù va davanti a lui e lo chiama, Zaccheo, scendi, presto, perché oggi devo venire a casa tua, devo pensare a casa tua. E quest'uomo accoglie Gesù nella sua casa e guardate la conclusione della visita, Zaccheo, vedendo l'amore che Gesù gli dà, si converta a quell'amore. Ecco, Signore, d'oggi in poi darò metà dei miei beni ai poveri, non vivrò più per me. E se ho frodato qualcuno, li restituisco quattro volte tanto. Vedete, fratelli, quando uno di noi si pende di qualcosa, i buoni sentimenti sono sempre graditi al Signore, ma il pendimento deve essere sempre accompagnato da gesti concreti. Come dice Gesù, il tuo occhio ti scandalizza, cavalo! Cioè, tu guardi l'internet per vedere, supponiamo, messaggi firmati, porno, cose non confacenti allo spirito cristiano, va bene, vende il computer, dà la via, o stacca, fate le decisioni concrete, delle decisioni che siano segni di un ravvedimento che non sia semplicemente una velleità. Vorrei mai, quando abbiamo quello stato di cose, non arriviamo mai a un cambiamento reale di vita. Allora digiuno, faccio le mosere ai poveri, mi stacco, come una volta un ragazzo mi disse, io ho il viso di bestemmiare, il confessore mi ha detto di dar mille lire a un povero ogni volta che bestemmio, e sono ridotto che non ho più niente, e capì che doveva cambiare il cuore. Bene, fratelli, il Signore chiama oggi tutta la Chiesa a lasciarsi rinnovare da questo fuoco l'amore. Signore Gesù, Tu sei l'amen di Dio, sei il compimento di ogni promessa del Padre. Oggi dona a tutti tutta la Tua Chiesa, questo cuore nuovo, questa appartenenza a te nello Spirito Santo, questa comunione con te, facendo con te un corpo solo, un'anima sola, avendo un sangue solo, e tu perciò ci nutri col tuo corpo e col tuo sangue, per manifestarci che siamo tuoi, che tu vivi in noi. Manifesta oggi questa gloria, questa potenza, e questa tua appartenenza alla Chiesa, e la nostra appartenenza a te, perché non ci stacchiamo mai, come la Santa che festeggiamo oggi, che ci dà Santa Elisabetta di Ungheria, che ci dà questo bel esempio di tutta l'appartenenza a te, e tu Vergine Santissima, Vergine Immacolata, in te non c'è mai stata di tupanza, non c'è stata mai mediocrità, tu per noi sei il fare la luce che ci dà speranza e certezza che ogni promessa che il Signore ci fa viene adempiuta, anzi, è stata adempiuta, il compimento si chiama Gesù, donaci di incontrarlo pienamente e di appartenergli come hai fatto tu, a Lui la loda e la gloria per tutti i secoli dei secoli, Amen, e che questa grazia oggi, fratelli, illumini la vostra vita anche in mezzo alle difficoltà che si stanno moltiplicando, ma il Signore è con te, Amen.